Pronto? Questo telefono è sotto controllo, perciò devo essere breve. Sono arrivati a te per primi. Questo telefono è sotto controllo. Perciò devo essere breve. Passi molto tempo che non ti viro e non ti vedo e non chiedi e giocheri Quien sabe quanta cosa quería hacer. Bueno, questa è una notte speciale. La notte del 16 de marzo del 2001. Hay molta gente che arriva da tutto il luogo per poter ascoltare, per poter ascoltare. La notte del 16 di marzo. 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 Questa è la notte del 16 di marzo. Questa è la notte del 16 di marzo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti